Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore Ormai è passato un po' di tempo da quando quel comunicato ha generato un gran casino Un fulmine a ciel sereno, una separazione avvenuta all'improvviso che è stata resa pubblica tutti attraverso un comunicato ANSA Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia Michelle e Tommaso Il pubblico, maggiormente i più affezionati della coppia, non avrebbero mai immaginato che tra i due ci fosse una crisi Eppure, complice il lockdown e complici gli interessi differenti, un amore è sfumato senza lasciare alcuna speranza di ritorno di fiamma Tommaso Trussardi e Michelle Lunsiker nel corso del loro matrimonio hanno costruito una famiglia meravigliosa, condividendo ogni giornata con le figlie sole e celeste Ormai sembra che entrambi abbiano preso delle strade differenti, creandosi così delle nuove relazioni e iniziando a frequentare quindi altre persone Il rapporto tra i due ex coniugi rimane comunque civile, in quanto vi sono nel mezzo due creature indifese, per l'appunto le figlie Il gesto inaspettato dell'imprenditore.Generalmente sono proprio i bambini che pagano il pegno, che si ritrovano nel mezzo tra le lotte infinite dei genitori in fase di separazione Per evitare che possano essere feriti in qualche modo, generalmente si tende a tenere un rapporto di amicizia o quantomeno civile Ad oggi infatti il rapporto tra Michelle Lunsicher e Tommaso Trussardi sembra essere totalmente cordiale A dimostrare questa situazione è anche il fatto che i due abbiano deciso di trascorrere in un weekend insieme, esattamente come una vera famiglia, proprio come lo erano in passato Lo scorso fine settimana infatti Tommaso Trussardi e Michelle Lunsicher hanno trascorso due giorni a Franciacorta, in occasione di un evento dedicato alle auto Insieme agli ex coniugi erano presenti anche le figlie Sole e Celeste, ma anche Aurora Ramazzotti insieme a Goffredo Cerza La presentatrice e l'imprenditore hanno vestito ancora una volta i panni di genitori, sentendosi perfettamente a proprio agio l'uno accanto all'altra Ma il gesto più inaspettato, quello carico di amore, è stato compiuto dallo stesso Tommaso Trussardi Difficile non emozionarsi dinanzi alla foto in cui l'imprenditore abbraccia con amore la figlia Celeste Ancora una volta, nonostante i problemi tra una coppia, Trussardi è stato in grado di dimostrare che indipendentemente dagli ostacoli, l'amore per i figli è sempre più grande Ancora una volta, nonostante i problemi tra un'imprenditore Nonostante i problemi tra un'imprenditore Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente